Inserono un concetto. C'è questo video! C'è questo video? C'è questo video?! C'è questo video? C'è questo video! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha RISCIA! 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 Non è tu, n está sì! Sta' ste via! RISCIA! RISCIA! e quindi si è tutta qua il caldo trotto! RISCIA! RISCIA! ritorniamo come tu geni metti il tono? io voglio di conto e sottotitoli non voglio sappiamo e ecco non c'è l'ultima non c'è l'ultima non c'è l'ultima oh guarda sei che vede Grazie a tutti.